Agricorio è un contratto di rete nazionale tra cooperative sociali che operano in agricoltura sociale. Il contratto di rete promuove le attività produttive delle cooperative, valorizziamo i prodotti, le produzioni e cerchiamo di trasformare progetti di agricoltura sociale in attività d'impresa. Lo facciamo attraverso scambio di know-how e competenze tecniche tra le cooperative, lo facciamo attraverso attività comuni di commercializzazione dei prodotti, lo facciamo attraverso, e questo è l'aspetto più innovativo perché non è mai stato realizzato fino ad oggi, attraverso la valorizzazione dell'agricoltura sociale. Per fare questo abbiamo creato un marchio unico, AgriSocial, che è un marchio a ombrello che identifica, tutela e promuove i prodotti di agricoltura sociale delle nostre cooperative.